Linea quattro, Bandusa Uglia, con Napoli, 365. Linea cinque, Zuccolo Simone, con Trieste, 362. Ia sei, Roberto Giovanni, con Roma, Recepio Sissan. Secondo te, è veroli o veroli? Vero Lì Bravo Dimmi, per cosa è famoso in tutto il mondo Vero Lì? Per l'accento finale Il piatto tipico di Vero Lì? Passaparola Vero Lì Come si chiamano le donne che vivono a Vero Lì? Verolettiche E poi il loro problema? Le verruche Ma cosa cacciano maggiormente a Vero Lì? I cinghialì No, i caprioli Vai Matteo, le prime impressioni di Vero Lì? Piove Come avevo detto prima Fa freddo C'è nebbia E bocca fregna se devo dire la verità Ma Ma Potrei smentirmi Perlomeno non si allaga la città Dai che è in alto sulla cresta dell'arcolbino Vai vai Vieni tranquillo anche di qua Ma se questo è il poligono? Sì Tira in camera Le ultime parole Le ultime parole famose? Sì Ehm All'attacco Sì 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 Sì